Allora ragazzi sono arrivato più o meno allo stesso punto di prima, forse un po' meno di prima Comunque sia ho una nuova strategia Ossia che ogni volo appena inizia a tirare tre fine certe Dopo aver tirato tre fine certe io vado a ritirare perché veramente l'ultima volta Per aspettare che tirasse quattro è aspettare un po' troppo Adesso ragazzi vado a salvare, a salvare quella barra vita per appunto che io ho tolto E poi ritorniamo per appunto adesso che ho appena fatto ripartire il video Faccio per dire che adesso devo rimettere in pausa perché adesso vado a salvare No ma comunque sia è per ripristinare i punti di magia che ho visto che comunque sia li sto finendo ragazzi Ad ogni modo e ho tolto, porca puttana Trappola antimago, fantastico Adesso mi serve ancora di più la trappola, adesso mi serve ancora di più il salvo cristallo per andare a salvare Ok ragazzi ho appena fatto ripartire però adesso giustamente rifermo perché dobbiamo per appunto salvare Per appunto questa preaventurata, questa preziosa barra vita Ok Allora io ragazzi adesso sono ritornato all'entrata, non metto neanche tutti i potenziamenti che metto Di solito metto solamente protect shell e haste e levitaria perché veramente ragazzi Altrimenti arriviamo a veramente finire domani il gioco Io oggi ho intenzione però di finire perciò dobbiamo essere molto molto veloci Allora la tecnica del davvero mettere il rovescio sul penello come esca funziona alla grande Adesso non appena arriviamo domani gli atmat attivo tutti i gambiti così sfruttiamo al massimo Quello che ho avuto a disposizione e tra l'altro ho notato ragazzi mentre toglievo la barra vita che ho perso Nello scorso episodio off camera ho notato che quando fai intimidazione appena entriamo gli atmat Gli tolgo la metà dei punti vita che gli toglierai in teoria quando sono di status furia Quindi è proprio una cosa No perché anzi no? Perché non tenerla? Guardate intimidazione se arrivano la doppia adesso gli toglierò meno di quello che gli toglieri in teoria Così Adesso vai faccia difesa Ah il pennello è lontano Anzi no ci ho ripensato non metto più in versione la scelta troppe volte Ragazzi il nostro problema principale non sono le fini certe Ah e i cicloni chiaramente Cioè com'è possibile che è sopravvissuto Bash che il pennello che l'aveva al massimo praticamente Punto vita Ragazzi veramente te se la stuporbrassa ha riusciato gli anche una paghe in un ground No ti prego non sto Ragazzi questo boss sta diventando Cominciamo a diventare proponibile con questo ultimo barra di vita Veramente adesso impiego Ah che ma che 10 minuti 20 minuti per solo una barra vita Perché mi ammazza tutto il mondo Polima Ho controllato prima nella lista dell'inventario qui sulla guida del gioco Il problema è che non c'è un oggetto che ti dia un status rovescio E questa è una cosa che mi fa incazzare Perché per appunto qui Avrei personaggi sullo status rovescio Andrebbe Alla grande Eh E' da peu Oh E' da belle Eh E' engagements пожалуйста No 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 staying Ok, ho rimessi. Ecco, metti un braccio adesso, facciamo così. Ecco, metti un braccio adesso, facciamo così. Ok. Quando vedo, anzi adesso, non ce l'ho pensato, quando vedo che tira due finicette di fila, batto le ritirate. Veramente, ragazzi, adesso le finicette, dopo che sono morta con le finicette, morio di paura. Oh, un reflega? Ah, metti un reflega, eh. Fa un'infamata questa, perché adesso non posso più curarmi. Non posso più curarmi, ragazzi. E nessuno si può più mettere in versione tutto quello che vuole, perché... Si ha messo... Reflex, quel bastardo. Guarda te, che sfiga, oh. Ok, qui almeno adesso è tornata in vita... Oh, guarda, piuttosto se devi fare qualcosa... Aspettate, se devi fare qualcosa... Oh, ritengo i cosi attivi. Non mi ricordo quanto tempo due le reflega, se hai fatto che si ammazza anche Ash adesso. Ok, un'altra seconda barra di oggi tolta. Adesso dico, barra di oggi, perché per l'appunto voglio finirlo. Lì, in alto ne indica quattro, ma in realtà poi ne rimane un po' a una dopo quella, quindi sono un po' a cinque. Mazza, l'ha ammazzata. Ciclone, forse... Ash sopravvive? Perché c'è un reflex addosso? No. No, l'era appena andato via, anzi. Questa è sfiga. Che è in versione, adesso li porto in vita a tutti, che è qui dato gli altri, quando si è sistemato. No! Mannaggia, che sfiga. Cioè, è riuscita a tirarsi in versione, quando mai l'aveva ammazzata, capito? Questa è sfiga. Cominciò a tirare, cominciò a tirare, fino a 7. E arrivare fino a 7. Allora, si ti ascella adesso? Sì, sì, ma fa pure, guarda. Questa è un poardino anzi. È un poardino. oh basta facciate con un copo solo strunzo via 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 io quando comincio a tirare finicette e ho pochi personaggi vivi in campo non lo voglio di rischiare veramente via 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 allora vado a salvare ancora che intanto gli abbiamo tolto una barra vita giusto si per certo si vado a salvare di nuovo metto di nuovo in pausa e ci vediamo dopo ok perfetto sono ritornata chiaramente mi aveva fatto fare una barra vita giusto che sarebbe stata la seconda della giornata si ne mancano ancora 5 vediamo di darci dentro la prevediamo dispel secondo attivo il gambit dei due qua ok adesso bisogna ammazzarlo ecco vedete che appunto gli ho tolto tantissimo guardate gli ha tolto di meno adesso vuol dire che tipo si ha gioppiato le barra vita e questa è una cosa infamissima partiamo che ci ha tirato va bene ci tiene che frega eh ci tiene che frega ci tiene che frega allora aspettate che il dispel che il dispel cura il reflex ecco visto ecco visto stai di fatto che anche prima che eh luci stai di fatto che anche prima che riesca a fare qualcosa di mi ammazzo con un cobo ecco c'è raga comincia veramente a stare sulle palle eh sta roba c'è non ho fatto niente sbettila subito c'è raga sta roba c'è raga sta roba c'è raga c'è raga c'è raga giuro che se non la smette mi ammazzo prima io il bello è che se tiene un attacco che va ad accappare in un corpo ti ammazzo su copa che se c'è il govescio ragazzo e scioperti agli faccio di presa questo problema non è no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 no davvero già è già nato Grazie a tutti. 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 Non si occulta. Ok? Ok? Ok. 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 il 77% della batteria di tavolo oggi mi sa che c'era bacio che ci sono anche gli episodi di fine merda non può tirare a reitz non può tirare merda merda anche non può tirare a reitz merda 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 andiamo avanti così sì merda 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 Sono ufficialmente morti tutti quanti. E invece il goverso di preghiero, la donna, è perfetto. La donna, 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 la donna, è perfetto. ragazzo ancora tre fottute baghe e il viazzo è morto mio dio non ci posso credere chi ammazza? ecco l'unico problema è quando potremmo ammazzare le persone con un corpo sole adesso non ho problemi questo potrebbe rivelazare il problema e muoviamo così ancora ok intanto vediamo lui che si mette la fuggia addosso che lo tempesta ok è lei che si mette l'esca ok e adesso Ash che mette l'esca tutti vai veloce veloce mamà cacare non ci ha mi mancava la trappola adesso miseria adesso la dovrei tirare ritiriamoci 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 via cavoli siamo arrivati già con altri minuti di episodio madonna ok ok mio dio ragazzi ce la stiamo facendo adesso andiamo a salvare per l'ennesima volta e spero che nei prossimi episodi vogliamo fine alla vita di questo maledetto boss oh mio dio sembra che non finisce mai ciao a tutti Grazie a tutti.